Impegno esterno del Canica T5, oggi pomeriggio alle 17 a Caltagirone per la terza gara del triangolare di Coppa Sicilia di Futsal contro i Calatini. Alla squadra canicattinese, allenata da Jackie Giardina, servirà anche un pareggio per potersi qualificare il turno successivo, ma la parola d'ordine è vincere. La società del presidente Vincenzo Urso ci tiene particolarmente a proseguire il cammino nella competizione perché l'aggiudicazione della Coppa darà diritto alla squadra di fare il salto di categoria. Ed è questo l'obiettivo stagionale del Canica T5. Per giungere a questa fase il team canicattinese ha battuto per 3 a 2 i cugini del città di Canica T in un derby molto bello che si è concluso con il risultato di 3 a 2. Nel triangolare il città di Canica T ha pareggiato con i Calatini 4 a 4 ed ecco che alla formazione di Giardina servirà anche un pareggio per potersi qualificare al turno successivo. Per noi è una partita importante, sarà un bel match, dice il tecnico del Canica T, Jack Giardina, perché il caltagirone è primo in classifica nell'altro girone. Noi abbiamo la possibilità di avere due risultati utili, il pareggio, la vittoria per accedere al secondo turno. Competizione importante perché se riesce a vincere la Coppa Sicilia conquisti anche l'accesso alla C1. Questi giocatori canicattinesi convocati per la partita contro i Calatini, Roccaro e Lavilla, Portieri, il nuovo acquisto, Gianluca e Sgro, Corbo, Providenza, Falsone, Fontana, Faldette, Lardo, Rampello, Lalomia e Sirone, giocatori di movimento. Il campionato è attualmente fermo e riprenderà il 12 gennaio nell'undicesima giornata del campionato interprovinciale di serie C2, girone A di calcio a 5. Il Canica T ha battuto il centro sportivo azzurro di Castelvetrano e si è piazzato nei piani alti della gradatoria.